Di prendere contatto con i tre punti è l'imperativo categorico in casa Taranto per i rosso-blu e martedì di vigilia considerando che domani alle ore 14.30 prenderanno il via gli ultimi 40 minuti della partita contro la Bibonese, snodo cruciale in chiave salvezza. La terza per l'occasione è sempre intenzionato a gettare nella mischia l'artiglieria pesante. Si riparte infatti dal punteggio di 0-0 e il poco tempo a disposizione impone di provare sin da subito a mutare l'inerzia della partita. D'altro canto però il tecnico rosso-blu non avrà l'assillo di gestire gli interpreti anche in funzione dei cambi in corso d'opera. Sul rettangolo verde quindi spazio al miglior 11 possibile. Si va verso la conferma del 4-2-3-1 davanti a Chiorra perciò fiducia al duo Zullo-Benassai con Riccardi sulla destra e uno tra Ferrara e De Maria a sinistra. In cabina di regia Capitan Marsili e Civilleri mentre sulla linea della tre quarti in posizione centrale potrebbe essere avanzato Di Gennaro affiancato da uno tra Bersiente e Pacilli a destra e probabilmente da Sant'Arpia a sinistra. Saraniti manco a dirlo sarà il terminale d'attacco. Mancherà Giovinco che lo scorso 15 febbraio era squalificato. Nei 40 minuti restanti quindi terminerà il suo turno di stop.